Molto significativa e tutt'altro che ottimistica di Giacomo Leopardi, il quale in un momento di riflessione affidato allo Zibaldone riflette sul nesso inscindibile tra libertà e schiavitù. Lui dice, credo di avere cavato questa idea da alcune righe del contratto sociale, deduco che l'abolizione della libertà è derivata dalla abolizione della schiavitù e che se non vi sono popoli liberi questo accade perché non vi sono più schiavi. Cosa significa questa riflessione sull'inscindibile rapporto? È nata evidentemente dall'esperienza del mondo antico, del quale egli è profondo conoscitore, e cioè il fatto che la libertà di coloro che detengono questo prezioso bene dal punto di vista dello status giuridico-sociale, intanto sussiste in quanto c'è un mondo dipendente, un mondo subalterno, il mondo appunto degli schiavi. Mi riferisco alla riflessione nicciana secondo cui, per fortuna, nel mondo antico esisteva la schiavitù, perché questo fu la base del miracolo greco. Aristotele ritiene che la schiavitù sia un dato di natura, e la grande corrente di pensiero sofistica ritiene il contrario, che cioè la natura umana sia una sola e che tutto il resto sia convenzionale. Ma le cifre, l'entità concreta di questo fenomeno, di tutto il mondo greco abbiamo soltanto un censimento riguardante Atene, abbiamo delle notizie riguardanti un'isola, l'isola di Chio, che era celebre per la massa enorme di schiavi. Tutto questo lo abbiamo grazie ad un libro curioso, un libro scritto da un erudito egiziano, piuttosto stravagante, si chiamava Ateneo di Naukrati, nato a Naukrati per l'appunto, al tempo dei Severi, quindi a cavallo fra il II e il III secolo d.C., e un intero libro Ateneo lo dedica alla schiavitù. E nella Germania occidentale, quando appunto esistevano due Germanie, un'intera scuola di carattere filosofico e storiografico al tempo stesso, a Magonza, ha instaurato una riflessione intitolata, raccolta sotto la formula, «Sklaverai und Humanität», cioè la schiavitù c'è bensì nel mondo antico e innegabile, ma è colorita di humanitas, e a tal fine si possono citare strumentalmente delle fonti, e soprattutto si mette in dubbio che l'entità numerica, la massa schiavile, fosse quella che le fonti ci attestano. Perché questo? Ma evidentemente perché la schiavitù è disturbante, cioè il fatto di un essere umano che dipende da un altro essere umano, che è alla merced di esso, intacca ogni costruzione idealizzante, questo è ovvio. Ora, ho detto prima, nel pensiero sofistico, malvisto, c'è la più importante conquista intellettuale del mondo antico, e cioè la concezione unitaria dell'essere umano. Un essere umano, indipendentemente dalla condizione in cui si trova, è l'incarnazione di Fusis. Tutto il resto è convenzione, di lì si possono cavare deduzioni di tipo opposto, naturalmente, ma è una scoperta rivoluzionaria, alla quale in parte si oppone la scienza medica, ipocratica in particolare, ponendo l'accento sul fatto che anche la natura è un prodotto storico, quindi la dieta, perché i greci hanno vinto sui persiani, pur essendo pochissimi rispetto a una massa sterbinata, perché sono superiori, perché hanno costruito una loro identità fisica e biologica che li ha messi in condizione di prevalere. Quindi l'Asia è schiava, come tale, perché c'è il re di Persia, unico tiranno, despota, su di un'immensa massa, abrutita, inferiore. Quest'inferiorità discende, dicono i medici ippocratici, in particolare il famoso trattato sulle aree, le acque e i luoghi, dalla dieta, dal tirocinio, dal modo di gestire il proprio corpo, la propria alimentazione. Quindi questo razzismo soft, come è stato definito da Claude Calam, è l'antidoto, potremmo dire, nel pensiero scientifico, medico, greco, alla scoperta sofistica della unità del genere umano. E' l'Iliade, un poema feroce che si apre con la rissa tra due esseri violenti per il possesso di una schiava. Non è nobilissimo come esordio quello dell'Iliade, ma la schiavitù è il prodotto diretto della guerra. La guerra serve, ma questo ancora secoli dopo, per schiavi oro. Quando Traiano conquista la Dacia, cioè l'attuale Romania, porta, secondo fonti molto bene informate, masse sterminate di schiavi e carri e carri e carri pieni di oro, delle miniere. Questo è il veicolo, diciamo così, della forza, della potenza. L'altra via alla schiavitù è i debiti. Si cade in schiavitù per debiti. Questo, nella realtà arcaica del mondo greco, per noi è documentato bene dalle notizie moltissime, numerosissime, che abbiamo su un personaggio molto controverso e molto interessante che è Solone, un signore al quale molto dobbiamo dal punto di vista della riflessione anche direttamente politologica. L'operazione che Solone instaura si chiamò scuotimento dei pesi, cioè appunto seisachteia, seio vuol dire scuotere, cioè dei debiti. È stato detto, e vedevo un'osservazione giusta, che quel passaggio storico epocale non si può cadere in servitù per debiti, che Solone instaura, ha anche stabilito un baratro nettissimo, invalicabile tra la condizione di libero e la condizione di schiavo. E questo è tipico del mondo ateniese dove il recupero, diciamo così, della libertà è affidato a condizioni eccezionali, si può accumulare un peculio e con questo peculio comprarsi la libertà, ma non si diventa cittadini, diversamente che nel diritto romano, per cui l'ex schiavo che si compra la libertà diventa cittadino, addirittura viene iscritto in una delle due tribù urbane. Per cui una delle rivendicazioni costanti dei movimenti popolari è il taglio dei debiti. Perché noi ne abbiamo notizia intermittente? Intanto perché abbiamo notizia in maniera continuativa soprattutto di un mondo egemonico, cioè Atene che è capofila di un impero che sfrutta gli alleati, li spreme, quindi il popolo di Atene è, come dice Tocqueville, un'aristocrazia allargata che si giova delle ricchezze che cava dagli alleati diventati sudditi. Ma quando l'impero finisce la situazione cambia il problema dei debiti ritorna. Nel IV secolo abbiamo un documento importantissimo anche se poco studiato forse scolasticamente ed è il Trattato di Corinto. Il Trattato di Corinto è un trattato imposto da Filippo di Macedonia nel 336 a.C. dopo avere Filippo sconfitto una coalizione panellenica piuttosto temibile nella celebre battaglia di Cheronea. Il Trattato di Corinto noi lo conosciamo da varie fonti una delle quali è un'orazione attica. Cosa vieta il Trattato di Corinto? Vieta che si proceda a confische di patrimoni. Confische di patrimoni possono essere un pericolo se per caso i benestanti si sottraggono a certi obblighi verso la città. le famose liturgie vieta la divisione delle terre latifondo dove esiste non può essere intaccato con norme legislative che lo limitino vieta la remissione dei debiti se qualcuno proporrà per sanare in certo senso l'inquietudine sociale di azzerare il debito è un concetto che forse c'è un tantino familiare tutto sommato nei tempi nostri questo è vietato esplicitamente dal Trattato di Corinto 336 avanti Cristo è vietato l'affrancamento in massa di schiavi per fini eversivi epineoterismo perché l'affrancamento individuale è legittimo l'abbiamo appena detto il singolo può conquistare non certo il minatore dell'aurion che muore a 30 anni perché non ha una speranza di vita più lunga ma lo schiavo che sta in casa lo schiavo agricolo può avere questa possibilità individualmente preso iniziative di affrancamento in massa sono vietate successe a ridosso proprio di Cheronea un episodio di questo genere ma non è il caso di dirlo e soprattutto il Trattato vieta la fuoruscita dal Trattato anche una religione di salvezza introduce il tema dei debiti se vogliamo l'unica preghiera cristiana attestata nei Vangeli in due forme ma quella più chiara è in Matteo afes tau feilemata che non vuol dire i peccati rimetti i debiti debiti nel senso materiale del termine liberi e schiavi sono l'inizio dei conflitti quindi è una dicotomia che appartiene a un passato remotissimo non è così è curioso perché lo stesso Marx poi da giornalista attivo anche per ragioni esistenziali di farsi pagare i pezzi che scriveva per alcuni giornali è stato cronista acuto della guerra di secessione americana cioè di una guerra che ha per oggetto principale la questione della schiavitù siamo intorno al 1860 e seguenti rispetto allo schema tutto eurocentrico del capitolo 1 del manifesto c'è poi il resto del mondo allora la storia di che cosa è accaduto all'istituto della schiavitù in epoche ben più vicine a noi è una storia che è stata variamente tentata e scritta sia pure per capitoli ma che ha alcune tappe fondamentali che è giusto ricordare tralascio la tratta è stata ampiamente studiata Eugene Genovese ha scritto tantissimo in proposito il nostro da ultimo insomma è uscito un libro piuttosto bello pubblicato dalla terza Controstoria del liberalismo di uno studioso italiano molto pugnace che si chiama Domenico Losurdo in cui si pone in rilievo come figure eminenti del liberalismo europeo come John Locke hanno avuto a che fare con il mercato degli schiavi con la tratta degli schiavi trattandosi di esseri umani di seconda classe neri come diceva uno storico romano mediocre che si chiamava Anneo Floro che forse era un discendente di Seneca il quale Seneca però aveva teorizzato l'unità del genere umano invece Anneo Floro quando parla della guerra di Spartaco della rivolta di Spartaco dice non so come definirla perché in questa guerra il secundum humanum genus cioè gli esseri umani di secondo rango gli schiavi hanno osato combattere ad armi pari con gli eserciti romani cioè con gli esseri umani di prima classe di primo rango erano considerati tali e quindi anche un filosofo liberale al quale ogni tanto si guarda con gli occhi umidi ha fatto i suoi affari con questo tipo di commercio e siamo in tempi a noi piuttosto vicini l'episodio al quale mi pare giusto richiamarmi in questo tentativo molto sommario di riflettere sulla vitalità della schiavitù in omaggio al pensiero leopardiano che le due cose vanno sempre insieme e l'abrogazione da parte della Convenzione nazionale il 16 piovoso dell'anno secondo della Repubblica cioè nel febbraio del 1794 che è un momento celeberrimo è stato varie volte raccontato che forse è istruttivo per il dibattito che si svolse alla Convenzione ampiamente documentato negli atti parlamentari due deputati eletti ad Haiti Guadalupa Martinica sono le colonie dove c'è la schiavitù delle piantagioni che la Repubblica francese nata nel settembre del 92 non ha ancora notato come fenomeno ma questi due sono lì e fanno notare che esiste questo problema il deputato della Croix dice indecente che noi continuiamo ancora a tenere in piedi dopo aver affermato i diritti dell'uomo eccetera eccetera nelle nostre colonie che sono parte del territorio della Repubblica l'istituto della schiavitù e porta argomenti irresistibili naturalmente succede però un fenomeno curioso che cioè altri convenzionali sollevano un'obiezione non possiamo varare una norma che dica la schiavitù è abrogata perché macchiamo noi infanghiamo la nostra assemblea usando la parola schiavitù perché è implicito nei diritti dell'uomo che abbiamo affermato che la schiavitù è un'istituzione da abrogare si alza un prete rivoluzionario per fortuna ogni tanto ce n'è qualcuno l'abbate Gregoire grande linguista studioso dei dialetti francesi inventore della biblioteca nazionale e della scheda bibliotecaria l'abbate Gregoire il quale dice vero però siccome in futuro può essere sofisticata questa nostra presa di posizione scriviamolo ugualmente e viene finalmente scritto purtroppo vanamente la scena è commovente i deputati vengono abbracciati dagli altri deputati quindi portati in trionfo benissimo vanamente perché di lì a poco queste colonie vengono perse dalla Francia l'Inghilterra liberale le occupa e ripristina immediatamente la schiavitù come è giusto e cosa ancora più dolorosa è Bonaparte che abroga in via formale le deliberazioni del piovoso dell'anno secondo suscitando qualche frizione anche forte un signore si amava Constantin Volné che era emerso durante i mesi Termidoriani professore all'Ecole Normale professore di storia all'Ecole Normale ammiratore di Bonaparte fino al 18 Brumaio si separa da lui ma Bonaparte cancella non solo questo no? perché instaura il suffragio ristretto la polizia politica la nobiltà dell'impero e tante altre cose e abroga le norme che cancellavano la schiavitù per cui il problema ritorna nella seconda Repubblica 1848 ad opera di due figure fra loro diversissime come da una parte Chelset che è radicale neo-giacobino anti-clericale e Henri Vallon che invece è un cattolico autore di un notevole histoire dell'esclavage dall'antichità che ancora oggi leggiamo utilmente i quali entrambi ripropongono e l'assemblea nazionale approva l'abrogazione della schiavitù in Colonia e quello che colpisce è che siamo alla metà del secolo XIX e il problema è sul tappeto ed è sul tappeto perché non è soltanto la realtà europea quella nella quale si sviluppa questo dramma è una realtà planetaria a questo punto credo che non sia inutile un ulteriore passo in avanti spero di non rubare troppo del vostro tempo e strumentalmente oserei dire mi richiamo ancora una volta ad un testo questa volta non i primi righi ma gli ultimi del manifesto che è un testo brillante è un testo in un tedesco straordinario è uscito qualche mese fa un libro piuttosto divertente di Donald Sassoun notevole storico laborista intervista immaginaria a Marx piena di intelligenza dove Marx a un certo punto rivendica di aver saputo scrivere delle formule di effetto dirompente dice per esempio nessuno di questi scribacchini di Downing Street sarebbe capace di scrivere proletari di tutto il mondo unitevi non avete da perdere che le vostre catene e allora Sassoun che lo intervista in questo incontro immaginario dice ma forse lei non dottor Marx non si rende conto che oggi hanno molto da perdere quando lei scriveva 1800 ancora 15 anni dopo il manifesto i ferrovieri inglesi lavoravano circa 30 ore di fila e quindi gli incidenti ferroviari erano all'ordine del giorno e venivano chiamati disdette di Dio cioè il Padre Eterno ogni tanto provvede a un disastro ferroviario oggi è diverso quindi lei si rende conto che i proletari che lei invocava affinché si unissero spiegando loro che non avevano altro da perdere che le loro catene oggi hanno molto da perdere e lui dice sì è vero in questo dialogo c'è in realtà il paradosso del movimento socialista di cui rivendica di essere uno degli artefici è che quanto più le conquiste procedono dal punto di vista della condizione materiale tanto più l'impulso rivoluzionario si spegne quindi in certo senso il movimento che io ho creato depotenzia gli obiettivi che ho indicato dice il filosofo dall'aldilà intervistato però da un bravo storico laborista e questa riflessione di Sassun travestita da intervista impossibile tocca un punto vero ma tocca un punto che nell'intervista poi viene anche sviluppato e cioè se questa riflessione non sia ancora una volta rigorosamente eurocentrica per questo mi è parso giusto questo punto della mia piccola relazione evocare un altro momento nel quale la parola schiavitù è stata adoperata per indicare una situazione presente non un fatto storico 1915 a ridosso potremmo dire della conferenza di Zimmerwald fallita nel tentativo della seconda internazionale di fermare la guerra divisione tra i vari partiti socialisti sappiamo questa storia tragica a ridosso di Zimmerwald Lenin pubblica un opuscolo che si chiama il socialismo e la guerra un opuscolo molto schematico molto netto dice Marx al professor Sassun in quella intervista Lenin era molto capace politicamente un fondamentalista perché ha preso per Bibbia tutto quello che io ho scritto e ha inventato il marxismo quindi molta ironia su questo ma questo fondamentalista però nel saggio intitolato il socialismo e la guerra 1915 coglie il punto centrale della guerra tremenda del 14 e cioè quella che definisce molto schematicamente la ripartizione attuale del mondo tra le grandi potenze e gli schiavi le grandi potenze si sono divisi il mondo schiavizzandolo e porta le cifre dal punto di vista dei milioni di abitanti quanti milioni di abitanti l'Inghilterra quanti milioni di abitanti tutti gli schiavi dell'Inghilterra cioè il resto del pianeta sotto controllo inglese sotto controllo francese sotto controllo tedesco e la guerra nasce di lì dal fatto che questi schiavisti stanno scannandosi per redistribuire la proprietà degli schiavi cioè del resto del mondo è chiaro che è un linguaggio estremamente crudo e semplificatorio ma l'ho citato perché viene in taglio nella riflessione alla quale ora vorrei accostarmi non dimentichiamo che lo abbiamo appena detto hanno parecchio da perdere effettivamente sì ho messo in fila perché mi è parso giusto schematizzare degli interventi che hanno una loro coerenza prima di questo intervento del 15 così netto e che credo colga uno degli aspetti fondamentali del conflitto da cui ha avuto inizio il novecento ma prima di esso c'è un saggio un breve articolo del 13 quindi quasi due anni prima intitolato il risveglio dell'Asia questo articolo Lenin scrive che il movimento del 1905 la rivoluzione del 5 si è estesa a tutta l'Asia la Turchia la Persia la Cina anche l'India si muovono perché c'è stato questo scossone del 5 e poi si concentra sull'isola di Java con un articolo molto interessante in cui descrive la composizione sociale di questa colonia olandese il ruolo dei cinesi il ruolo degli olandesi che abitano lì il ruolo della potenza coloniale e spera che da questa situazione concreta discenda un movimento ostile all'imperialismo olandese siamo nel 13 ma non può prevedere la guerra la guerra nel 15 la diagnostica in quel modo come ben sappiamo la delusione principale epocale del bolshevismo giunto al potere è stato che l'Europa occidentale non si è mossa questa è una storia che è stata raccontata tante volte quindi non è caso di ricordarla qui dopo la guerra russo-polacca del 20 il problema è chiuso la Germania ha preso un'altra strada eccetera e nel 20 al secondo congresso dell'internazionale Lenin fa un intervento lunghissimo vibrante il cui nocciolo il cui concetto principale è il nostro avversario è la aristocrazia operaia l'aristocrazia operaia è cointeressata alla conservazione del sistema sociale esistente nelle grandi e ricche potenze occidentali e sono i nostri antagonisti la guerra però ha portato nella storia i tre quarti dell'umanità li ha brutalmente gettati nella storia anche perché inglesi francesi soprattutto hanno preso i popoli coloniali li hanno trasformati in combattenti al loro servizio nella guerra che si è sviluppata e questo ha diffuso coscienza coscienza che inevitabilmente si estende ai paesi da cui questi provengono quindi è lì il nostro sguardo che deve rivolgersi le aristocrazie operaie sono il nostro nemico ma i popoli del mondo che sono schiavi sono i nostri alleati ed è un testo questo del luglio del 1920 ottimistico nel quale la prospettiva delineata io l'ho riassunta pedestremente ma non volevo infliggervi una lettura fatta partitamente la prospettiva delineata è considerata attuale attuabile al tempo stesso primi di settembre quindi poche settimane dopo si svolge a Baku una grande conferenza dei popoli dell'Asia promossa dall'internazionale presieduta da Zinoviev in cui affiora anche una formula che oggi può ci far abbrividire e cioè la guerra santa il jihad islamico tra i presenti gli islamici sono tantissimi nella conferenza di Baku è beninteso e quindi il linguaggio che adopera questo dirigente dell'internazionale è rivolto a far sorgere negli ascoltatori una connessione positiva tra l'internazionale che li sollecita e la loro cultura di partenza la guerra santa il jihad contro l'imperialismo conferenza di Baku non ha in sostanza nessun risultato pratico l'ultimo intervento al quale mi pareva giusto richiamarmi per commentare la battuta hanno molto da perdere gli operai dell'occidente da un'eventuale rivoluzione e in uno scritto del 23 in uno scritto del marzo del 23 quindi pochi mesi prima della morte di Lenin che ha un titolo molto significativo meglio meno ma meglio che è un titolo abbastanza riduttivo se vogliamo nel quale si dice siamo stati sconfitti non abbiamo sfondato l'occidente e siamo stati respinti da quella parte e allora la prospettiva è la Cina l'India perché aggirando l'imperialismo da quella parte riprendiamo il filo del nostro lavoro lui muore poco dopo ora il novecento è stato caratterizzato dal fenomeno al quale mi sono riferito e credo che queste brevi citazioni che ho voluto fare stiano a significare come in quella riflessione la tematica schiavitù come soggetto presente sia molto chiara il secolo ventesimo è stato caratterizzato da questa vicenda e segnato da due delusioni potremmo dire la prima è quella appunto di cui dà conto questa letteratura alla quale mi sono riferito l'altra è quella conseguente al fallimento della decolonizzazione in fondo la linea indicata in questi interventi soprattutto nell'ultimo a girare l'imperialismo sollevando gli schiavi del mondo è diventata e passa a diventare azione concreta con la fine degli imperi coloniali conseguente alla seconda guerra mondiale all'esito della seconda guerra mondiale con anime diverse con soggetti diversi anche ambigui anche complessi faccio solo un esempio nel 1955 un periodico importante nel dibattito culturale italiano che si chiamava Rinascita pubblica un documento molto articolato e molto ben argomentato del partito comunista egiziano che denuncia il regime di Nasser come fascismo 1955 ed è un attacco frontale diciamo a quello che poi siamo soliti chiamare socialismo arabo ma Nasser non era del Baat ma era alleato di Qassem che era un leader del Baat iracheno ha stabilito la Repubblica Araba Unita inseguendo questo disegno è notevole che nel 1955 una riflessione affidata ad un settimanale ben sorvegliato dal suo direttore direttore di Rinascita non lasciava pubblicare a casaccio articoli che non avessero il suo consenso si chiamava Palmiro Togliatti come tutti sappiamo ed è interessante che avallasse quella direzione del settimanale una valutazione così dura e poco in linea con l'orizzonte che si stava sviluppando proprio in quei mesi il famoso spirito di Bandung per cui i non allineati avrebbero dovuto rappresentare il fronte antiimperialista perché fallita quella vicenda è fallita perché dall'altra parte c'è stata una straordinaria capacità di conquistare i ceti dirigenti dei paesi ex coloniali ripiombati in una situazione di dipendenza non più direttamente formalizzata dal rapporto madrepatria-colonia ma da rapporti ben più forti ben più pervasivi che sono quelli che sono sotto i nostri occhi con l'esito imprevisto perché la storia si riserva sempre di avere esiti non prevedibili di conflitti spaventosi non più dominabili dagli stessi che hanno imbrigliato il mondo ex-coloniale e in fondo quello che abbiamo sotto i nostri occhi è esattamente questo la esplosione in forme sempre meno razionali di mondi ai quali è stata via via preclusa abilmente una vera libertà dalla dipendenza dei grandi imperi con un ultimo elemento di contorno che dovrebbe non solo allarmarci ma indurci ad una seria autocritica e cioè il fatto che mentre la schiavitù vigoreggia nei mondi dipendenti per le ragioni che abbiamo sommariamente detto si affaccia anche nel nostro avamposti di dipendenza di tipo schiavile ci sono nel nostro ricchissimo occidente il ghetto di rignano in capitanata è un caso concreto di schiavitù stricto sensu come mai etica filosofia dovrebbero contrapporsi ma finito l'esperimento socialista è entrato in crisi lo stato sociale che ne era il figlio in occidente il problema del profitto come architrave come santo graal si può affrontare e difendere ormai soprattutto attraverso le forme di dipendenza schiavistica il profitto è sacro lo stato sociale dà diritti che intaccano il profitto inevitabilmente specie in periodi di grave crisi come quella che da anni ci tormenta e allora la dipendenza di tipo schiavile dal Bangladesh alla capitanata ad altre parti del mondo garantisce il profitto il che vuol dire che lungi dall'essere un relitto storico un fossile la schiavitù e la forma attuale di alimento del profitto capitalistico grazie grazie grazie